Le prospettive economiche internazionali restano molto incerte, condizionate dall'acquirsi delle tensioni geopolitiche e dalle condizioni finanziarie sfavorevoli per famiglie ed imprese. È quanto diffonde l'Istat nella nota mensile sull'economia di ottobre. Nel terzo trimestre il PIL italiano è stato stabile rispetto al secondo, registrando un risultato migliore della Germania ma peggiore rispetto a Francia e Spagna. La variazione acquisita dalla crescita del PIL per il 2023 è pari allo 0,7%. A ottobre inoltre la fiducia di famiglie ed imprese ha continuato a calare, suggerendo che l'economia italiana potrebbe rallentare nei prossimi mesi.